software direttive di missione attivato senso dell'umorismo disattivato come il computer stava un po esagerando così ho cambiato un paio di opzioni isola di tangaroa un tempo considerata solo un mito quest'isola situata a latitudine 4.815 e longitudine 162.342 è in gran parte inesplorata per quanto ne sappiamo questo frammento di meteora è ancora lì però l'attività dei pantom in zona è ancora intensa abbiamo inviato qualcuno a recuperare il frammento al contatto radio si è interrotto 24 ore fa identità pugno d'acciaio e non scherzate sul suo nome poteri noti pugno d'acciaio attacco del dragone non scherzate sul suo costume evidentemente dovrò scollegare anche i circuiti del sarcasmo andiamo ridai a questo povero computer il suo senso dell'umorismo circuiti del senso dell'umorismo riattivati grazie spider-man computer i pantom sull'isola sono identici a quelli che ho visto a tokyo l'ultimo rapporto dell'agente pugno d'acciaio ha identificato un indice simbionte del 9 per cento in tutti i pantom incontrati computer se pensi di poterlo fare senza combinare guai carica i profili dei super criminali identità minaccia scorpione la tuta dello scorpione equipaggiata con un laser al plasma ad alto potenziale attenzione a una coda molto grossa computer identità minaccia rino la forza di rino è pari soltanto alla sua mancanza d'astuzia attenzione puzza con un rinoceronte e va bene basta così voglio un tecnico subito voglio che sentite vi lascio qui a discutere io vado a vedere se riesco a trovare pugno d'acciaio e quel frammento di meteora località isola di tangaroa parli preparati Preparati, sta arrivando qualcosa. Ehi, Spider-Man, guarda un po' qui. Ehi, Spider-Man. Veneta! Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non livello 2 è aperto grazie a me ah 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 sole sabbia e surf quanto vorrei prendermi una vacanza no no Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Se fosse un bufone potrei quasi trovarlo spaventoso! Spider-Man! Andiamo! Spider-Man! Andiamo! Forza! Addosso! Forza! Addosso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi ringrazio per essere così disponibili a farvi prendere a pugni. Grazie a tutti. Secondo te il fatto che vinciamo sempre alla fine risulta noioso? Grazie a tutti. Forza, addosso! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi vinciamo, voi perdete. Perché parli al plurale? Grazie a tutti. Possibile... Possibile che sappiate fare solo la parte dei cattivi? Combo, livello 2. Combo, livello 2. Dobbiamo essere un supereroe? Ora sì che si raggiungono. Ora sì che si raggiungono. Grazie a tutti. 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 Seleziona il compagno. Seleziona il compagno. Laboratorio Ragnatila. Laboratorio Ragnatila. Grazie a tutti. 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 Tutto sistemato. Avanti! Come livello 2. Come livello 3. Come livello 3. Grazie a tutti. Una normale giornata di lavoro. Oh no, guai in vista. Oh no, guai in vista. Spiderman, i nemici che hai ordinato sono pronti. Vai scherzando? Oh no, guai in vista. Eccellente! Secondo te il fatto che vinciamo sempre alla fine risulta noioso? Per quanto mi riguarda, no di certo. Oh no, guai in vista. Sembra aperto. Direi che possiamo andare. Beh, questo posto è bello, ma non so perché ho una pessima sensazione. Oh no, guai in vista. Questi maledetti sono finiti. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Noi vinciamo, voi perdete. Fine. Vediamo di muoverci. Vediamo di muoverci. guarda di muoverci. Grazie a tutti 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 Wow, che panorama Grazie a tutti 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 Spiderman Grazie a tutti 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 Ti colpo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti